Milano, stazione centrale, nasce un nuovo distretto, il centrale district, è stato presentato all'hotel Principe di Savoia. Grandi hotel, gallerie d'arte e commercianti si sono uniti in un comitato per valorizzare il quartiere coniugando attrattività e sicurezza. Le district è un comitato, un comitato di zona del municipio 2 di Milano, è un comitato che si è formato grazie alla volontà degli albergatori della zona e di alcune realtà commerciali come anche gallerie d'arte. Questo comitato è nato sotto la spinta della volontà di migliorare un pochino la situazione di degrado che abbiamo trovato e si trova attualmente vicino alla stazione centrale. Questo degrado che sicuramente si può combattere attraverso le forze dell'ordine ma la volontà del comitato è invece riuscire a organizzare degli eventi culturali e cercare di prendere possesso di quei luoghi che sono rimasti un po' abbandonati a se stessi, angoli bui di questa zona, attraverso la città, attraverso la cultura e eventi culturali. È nata da un'esigenza di sicurezza inizialmente perché a fine del 2016 ci siamo incontrati albergatori qua della zona per il problema della zona stazione. Poi nel proseguo delle nostre discussioni hanno detto ma qual è la modalità migliore per garantire sicurezza e vivibilità alla zona e abbiamo pensato a un comitato che potesse diventare punto di partenza per una serie di eventi che avessero la zona della stazione come centro e che potessero quindi migliorare quella che è la vivibilità di quella che sta diventando la porta d'accesso forse principale a Milano perché con i treni della alta velocità e con l'arrivo degli autobus e dei tre diversi aeroporti milanesi sicuramente la stazione centrale è un punto focale per l'immagine della nostra città. Sicuramente rendere la zona viva e quindi creare una serie di eventi non limitati alle grandi fiere quindi il Salone del Mobile come magari una nuova zona di fuori salone ma creare tutto l'anno eventi che siano musicali, che siano di sportivi, qualunque tipo proprio per rendere l'attrattività di questa zona molto più ampia, molto più inclusiva l'idea anche di coinvolgere quelle che sono le diverse etnie che ormai popolano la nostra città è dimostrato dal presidente del nostro comitato che è venezuelano e quindi è qualcosa che vorrebbe essere proprio inclusivo e Milano porta di accesso alla città non solo dal punto di vista fisico ma anche sociale. Il Comune di Milano si sta già impegnando molto per la riqualificazione della zona dal punto di vista della proposta culturale anche con una presenza simbolica molto forte che è stata due anni fa l'installazione di un'opera d'arte importante del Maestro Pistoletto Devo dire che l'impegno che hanno assunto tutti i partecipanti a questo nuovo distretto centrale è però straordinario il Comune di Milano cercherà di accompagnare in tutti i modi positivi anche facilitando la realizzazione di iniziative, eventi, palinsesti appunto culturali proprio perché siamo profondamente convinti che la riqualificazione di un territorio passi attraverso anche la vivacità culturale che il tessuto sa esprimere il fatto di trovarci appunto in un luogo che ha già una dimensione architettonica di straordinaria potenza come evidentemente la stazione centrale è e il quartiere che lo circonda il fatto di essere poi in connessione in linea d'aria perfetta con quello che è uno dei nuovi centri della cultura milanese ossia Piazza Gaia Olenti e tutto il nuovo distretto accanto ad essa sorto secondo me è la migliore garanzia di successo per questa iniziativa di cui naturalmente l'amministrazione comunale ringrazia i soggetti privati che hanno voluto dare vita tanto il riconoscimento del valore di un'iniziativa di questo tipo che parte dagli operatori e che vuol valorizzare la grande qualità che c'è in questo distretto che ha innanzitutto un luogo fondamentale che è la principale porta di accesso alla città secondo luogo hotel e negozi di eccellenza e che ha bisogno di un po' di sicurezza, di tranquillità e di valorizzare ciò che di buono c'è qui dentro di farlo diventare sempre di più un luogo anche della vita dei milanesi e dei turisti che sempre più luminosi raggiungono questa città quindi la regione Lombardia incoraggia queste attività soprattutto perché non sono frutto di un'iniziativa calata dall'alto ma che parte dal basso insieme col Comune di Milano stiamo mettendo in campo molte iniziative ne abbiamo fatte in passato come i distretti dell'attrattività, i distretti del commercio hanno tutti questo scopo, sostenere anche con risorse con un riconoscimento la capacità di mobilitazione di chi è presente sul territorio io credo che questo sia un ottimo segnale e un esempio da replicare La nostra idea è appunto coinvolgere magari le etnie che sono già presenti sul territorio ad esempio vicino alla stazione centrale ci sono alcuni consolati e quindi ci sono delle comunità che già naturalmente gravitano intorno alla stazione centrale come la comunità equadoregna o piuttosto quella cubana ma vi è anche ad esempio un forte concentramento della cultura e della comunità domenicana dove c'è un luogo di ritrovo vicino alla stazione centrale e quindi abbiamo già parlato con alcuni degli attori di queste comunità per proporre dei progetti che siano propositivi e anche che valorizzino le culture presenti e possiamo dare una mano proprio per far conoscere anche ai cittadini milanesi il buono di queste culture non solamente l'aspetto negativo che molte volte si legge sulla cronaca